Enel! Mi dispiace solo che non ho notizie di Lila. Che volete imparare da gente costretta a vivere così? Sei una scrittrice, usa il tuo ruolo. Ognuno si racconta la vita come gli fa più comodo. Come fossi una bambola. Quando il tuo cuore è morto. Non mai ricordare che sei l'euro. E poi, quando il tuo cuore è morto. E poi, quando il tuo cuore è morto.